Pressione in calo sul Mediterraneo occidentale per l'avvicinarsi di un sistema perturbato atlantico che interesserà l'Italia nelle giornate di giovedì e venerdì. In Toscana giovedì 17 gennaio molto nuvoloso coperto con precipitazioni sparse più frequenti sulle zone nord-occidentali e sul sud della regione, neve sull'appennino tosco emiliano oltre 1400-1500 metri di quota, venti deboli o moderati da sud tendenti a disporsi al libeccio nel pomeriggio, mari mossi o molto mossi a nord dell'elba, temperature in aumento alle minime, massime in lieve diminuzione. Anche sul territorio provinciale da molto nuvoloso ha coperto con deboli piogge più intensa in serata, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 6 massima 13 gradi, a Castelnuovo Garfagnana e zone montane minima 5 massima 12, a Via Regge sul litorale minima 8 massima 15 gradi, venerdì migliora con cielo fino a poco nuvoloso, temperature stazionarie o in lieve aumento.